Shay Groves era una grande appassionata di true crime e serial killer e quando dico appassionata non mi riferisco al classico passatempo di guardare documentari true crime ma più che altro ad una vera e propria ossessione. Sulle pareti della sua camera da letto erano appesi i volti dei più temuti e spietati serial killer mai esistiti. Aveva studiato i documentari sui vari crimini e criminali e le modalità con le quali i killer riuscivano a fuggire alla giustizia. Tutte nozioni che in un modo o nell'altro le sarebbero servite. Amici miei buonasera sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Oggi non so se notate ho deciso di mettere un po' meno luce così siamo un po' più al buio mi avete detto in realtà in un po' di abbassare le luci e avete ragione ci sta di più così molto meglio che dite. Comunque oggi mamma mia ragazzi che storia. Oggi vi porto ad Avant, una città che si trova nel sud est dell'Hemshire in Inghilterra. E come tutte le ultime storie che vi ho raccontato ambientate in Inghilterra e anche quelle che vi racconterò nel prossimo futuro, anche questa vi farà sgranare gli occhi perché quasi non crederete a quello che è successo. Vi raccomando iscrivetevi al canale, mettete like a questo video se vi piacerà e detto questo torniamo a parlare di Avant. Il distretto comprende la città e i suoi soborghi, contando in totale quasi 170.000 abitanti, inclusa la località di Hayling Island, nonché il castello di Rowland, la città più grande di Waterlooville. Lo so, è un po' un casino e non ho capito bene neanch'io. Comunque ad Avant le estati sono gradevoli e non si raggiunge mai una temperatura troppo calda, mentre gli inverni sono molto lunghi, umidi e ventosi. E come praticamente in ogni città inglese è parzialmente nuvoloso tutto l'anno. Ed è in questa città che vive la protagonista della nostra storia. Il suo nome è Shay Groves. Shay nasce nel gennaio del 1996. Abbiamo cercato ovunque il giorno esatto di nascita, ma proprio non siamo riusciti a trovarlo, mi dispiace. E purtroppo non sono riuscito neanche a sapere molto sulla sua famiglia di origine. So che Shay ha passato un'infanzia piuttosto tormentata, a causa di abusi fisici e sessuali che avvenivano proprio tra le mura di casa. Ma purtroppo appunto non sappiamo bene le dinamiche e nemmeno chi abusasse di lei. Quando inizia ad andare a scuola, ovvero negli anni più importanti per la crescita di ognuno, Shay si porta dietro gli abusi che subiva in casa, con un conseguente comportamento diverso dai suoi compagni. Ovviamente. Shay è una bambina timida, un po' strana agli occhi degli altri bambini. Il che, come immaginerete, la porterà ad essere anche vittima di bullismo. All'età di 11 anni scopre anche di essere parzialmente sorda e viene quindi costretta a indossare un apparecchio acustico che, come immaginate, non fa altro che aumentare gli episodi di violenza verbale e psicologica nei suoi confronti anche da parte dei suoi coetanei. Ma Shay, nonostante alla fine sia riuscita a non curarsi dei giudizi altrui, stava attraversando comunque una pesante depressione dovuta a tutto ciò che aveva dovuto affrontare fino a quel momento. A 14 anni inizia a farsi del male da sola e, quando gli episodi di autoelisionismo diventano sempre più ricorrenti, Shay viene fatta visitare da uno psicologo e da uno psichiatra per valutare la sua depressione e pensare ad un eventuale trattamento. Così, viene fuori che Shay soffre di un disturbo bipolare. A partire da questa diagnosi, per lei comincia un vero e proprio declino. Purtroppo la famiglia, come vi dicevo, non sembrava curarsi molto di lei. Probabilmente se l'avessero presa in carico e le avessero fornito i giusti trattamenti medici, la ragazza avrebbe potuto riprendersi e condurre magari una vita normale. Tuttavia, questi disturbi sono anche la conseguenza degli anni di abusi fisici e psicologici che aveva dovuto affrontare proprio a causa della sua famiglia, senza contare poi il bullismo ricorrente a scuola. Quindi, ricapitolando, quando Shay riceve la diagnosi a solo 14 anni e a partire da quel momento la sua salute mentale comincia a peggiorare anno dopo anno. Inizia anche a fare uso di alcol e droghe durante l'adolescenza. Poi, da uso questo diventa abuso e l'abuso si trasforma in fretta in una vera e propria dipendenza. Con gli anni Shay comincia a tirare fuori la sua vera personalità e sente finalmente di poter esprimere se stessa, almeno in apparenza pensa che sia così. Soprattutto però per quanto riguarda lo stile e l'abbigliamento, su quello aveva davvero la libertà, almeno su una cosa. La ragazza infatti scopre un lato di sé molto dark e abbraccia uno stile gotico, il che aumenta notevolmente le critiche nei suoi confronti in adolescenza. Diciamo che ricalca proprio il prototipo di GOT, ama la musica metal e si veste sempre con catene, abiti scuri. Le persone intorno a lei le danno anche i soprannomi di Chucky, che sarebbe la famosa bambola assassina. In realtà Shay però non ha molti amici, le persone della sua scuola l'hanno definita come manipolatrice e molto riservata a livello di interazioni sociali. La ragazza in realtà ha solo due persone come amiche, Lauren White e Vicky Beitap. E in realtà la definizione amiche non so nemmeno se sia adatta. Provo a spiegarvi. Le tre ragazze compongono il classico trio in cui però c'è una sorta di gerarchia. Se avete visto il mio video sul caso di Nadia Roccia, sicuramente troverete un po' di somiglianze da questo punto di vista. Oppure pensate anche al caso di Missia Vila, ci ho fatto un video anche su quello, magari ve li lascio qui. Ecco, in questa situazione però è un rapporto direi meno estremo e meno malato rispetto alle storie che vi ho appena citato, almeno quello. Shay è molto molto legata a Lauren, che definisce come una sorella, ma molto meno a Vicky. Si crea quindi questa dinamica in cui Vicky rappresenta un po' la terza incomoda nel gruppo. E il motivo è semplice. Lauren è debole, timida, introversa e in sostanza non ha nessun amico oltre a Shay. Quindi diventa praticamente una sua seguace, si sente quasi in debito con lei solo per averle dato l'opportunità di essere sua amica. Vicky invece è tutto il contrario di Lauren. È una ragazza dal carattere forte, che molto difficilmente si fa manipolare. Mi sono soffermato su questo aspetto della loro amicizia perché, come vedrete, sarà molto importante per capire bene lo svolgimento delle vicende. In sostanza, Shay è una manipolatrice. Lauren si fa manipolare molto facilmente, mentre Vicky decisamente no. E sappiamo molto bene come possono andare a finire queste situazioni di leadership. Mi viene in mente adesso anche il caso di Jimmy Brout. Oddio. Vabbè, torniamo alle vicende. Shay, ad un certo punto durante la sua adolescenza, scappa di casa. Non sono riuscito a risalire all'età esatta di quando è accaduto. Indicativamente però, penso che avesse 16-17 anni. Decide di andarsene per fuggire appunto da quelle violenze quotidiane che subiva dentro le mure di casa sua. Però non aveva un reale piano o un posto in cui rifugiarsi. E purtroppo Shay finisce per trovare tutto tranne che la stabilità. Nel corso del tempo va a vivere con diversi fidanzati, che però si rivelano molto spesso violenti, sia verbalmente che fisicamente. Pensate che per un periodo sta a casa di uno di loro, subendo vari abusi, ma poi finisce lei per essere cacciata. Diciamo che questo non è un caso isolato se parliamo di persone cresciute in un contesto di violenza. Molto spesso queste persone, infatti da adulte, ricercano proprio figure che abbiano il controllo, tra virgolette, su di loro. E al contrario cercano di sottomettere anche chiunque si dimostri più debole. Come ad esempio, per Shay, Lauren. Intanto la sua salute mentale peggiora ancora. Sia per il contesto in cui si ritrova ancora una volta, pure in età adulta. E sia per l'abuso di alcol e droghe, che diventa sempre più ricorrente e sempre più preoccupante. Shay quindi conduce a questo stile di vita fino ai vent'anni, quando finalmente conosce un uomo di nome Ashley Wingham. E dico finalmente perché grazie a lui, Shay entra in una relazione relativamente sana. Ashley, infatti, di cui proprio non ho trovato nessuna foto, non si rivela essere come gli altri ragazzi che aveva l'abitudine di frequentare Shay. Anzi, la aiuta ad uscire dal tunnel della droga, incoraggiandola anche a cominciare un percorso di disintossicazione. I mesi passati con lui sembrano proprio segnare una vera e propria rinascita per Shay. E l'amore tra i due sembra intensificarsi sempre di più. Tant'è che ad un certo punto Shay scopre di essere incinta. Questo segna un ulteriore passo avanti per la sua salute mentale. Nel senso che comincia a sentirsi, tra virgolette, obbligata a dover star bene a 360 gradi. Proprio per la vita che stava portando in grembo. Shay quindi smette definitivamente sia di bere che di prendere farmaci. E comincia addirittura un percorso di terapia con uno psicologo. E durante tutta la gravidanza riceve anche un notevole supporto da parte dei medici. Smette anche di fare uso di droga ovviamente. Nell'aprile del 2017 la ragazza dà alla luce una bambina sanissima. E a partire da quel momento dimostra subito di essere una mamma modello. O almeno di volerlo essere. Fino alla nascita di sua figlia non aveva mai avuto un altro essere vivente. Di cui prendersi cura al 100%. E che dipendesse completamente da lei. Quindi la ragazza comincia a provare nuove sensazioni. E in lei nasce questo senso di dovere materno. Che la fa davvero prosperare in quanto donna e in quanto madre. Purtroppo però l'equilibrio tra lei, Ashley e la bimba non dura a lungo. Perché a pochi mesi dalla nascita la coppia decide di separarsi. Non sono riuscito a trovare i reali motivi della separazione. Ma a quanto pare i due decidono comunque di rimanere in buoni rapporti. E infatti la bimba alternerà giorni in cui stare con la mamma e giorni in cui stare col papà. Tuttavia Shay si ritrova costretta a trovare un altro posto in cui vivere. All'inizio trova una sistemazione temporanea in un centro di accoglienza per mamme single. E poi comincia di nuovo ad avere contatti con Lauren. La sua vecchia amica dell'adolescenza. Scopre così che Lauren stava vivendo praticamente una situazione molto simile alla sua. Infatti anche lei era una mamma single alla ricerca di una casa in cui poter crescere sua figlia. Così le due parlano un po', si ritrovano diciamo. E decidono alla fine di andare a vivere insieme. Perché sarebbe convenuto sia a Lauren che a Shay. Le due quindi finiscono per ottenere un alloggio in una casa popolare a Lake Park. Nel nord ovest di Diavant. I primi giorni di convivenza sembrano andare bene, perfettamente. Anzi, le due amiche condividono l'amore per le figlie. Le portano nella stessa scuola, frequentano le stesse attività. E in generale Shay diventa sempre più legata a sua figlia. Che considera ormai come la sua unica priorità. Ormai la droga e l'alcol rappresentano solo un brutto ricordo del passato. E le uniche cose che contano per lei sono la famiglia e la salute. Tuttavia, e ovviamente questo tuttavia doveva esserci, Shay purtroppo non era cambiata affatto per quanto riguarda il suo comportamento verso Lauren. Il loro rapporto infatti nel giro di poco tempo si trasforma in un qualcosa di malsano, di tossico. Ed è proprio Shay a ricercare questa dinamica di gerarchia. Lauren inizia sempre più spesso a doversi prendere cura non solo di sua figlia, ma anche della figlia di Shay. E a volte anche della stessa Shay. Quest'ultima infatti la obbligava ad occuparsi delle faccende domestiche. A preparare da mangiare per tutti, a portare entrambe le bimbi a scuola, e tutte queste faccende insomma. E se Lauren non obbediva, allora Shay diventava aggressiva e cattiva con lei. Cosa che Lauren, poverina, voleva evitare. Cioè, non era una di quelle persone a cui piace il confronto, che voleva litigare invece Shay. Diciamo di sì. Insomma, tira di nuovo fuori il suo lato controllante e manipolatore. Che a mio parere viene alimentato anche dal suo disturbo bipolare. Se vi ricordate, vi ho detto che dopo la scoperta di essere incinta, la ragazza aveva smesso anche di prendere pillole, farmaci. E perché ha un'edianesi del genere, questo può rappresentare un'arma a doppio taglio. Se da una parte il paziente si sente meno anestetizzato, dall'altra parte non ha un reale controllo delle emozioni. E alterna continuamente periodi di episodi maniacali, a periodi di profonda depressione, a periodi di lucidità in cui sta bene, e a periodi invece in cui magari il nervosismo è incontrollabile. E la rabbia diventa incontrollabile. Il problema più grande per Shay sono appunto gli episodi maniacali. La ragazza decide di installare addirittura delle telecamere a circuito chiuso in tutte le aree comuni della casa, in modo da controllare in qualsiasi momento cosa facesse Loren. È abbastanza assurdo, cioè lo so, non permettere alla propria conquilina e alla sua bimba di avere la loro privacy nelle aree comuni della casa, è una cosa totalmente insensata, irrispettosa, nonché appunto un grosso segno di psicosi delirante. Cioè non so se Shay temesse che Loren facesse qualcosa che lei non voleva, o se questa decisione era dettata dalla semplice fame di controllo su di lei. Fatto sta che installa queste videocamere, e saranno in realtà poi molto importanti, quindi meno male che le installate. Purtroppo per Loren però le cose andranno sempre peggio, perché di lì a poco sarebbe accaduto qualcosa che avrebbe segnato la vita di tutti quanti, compresi me e te, per sempre. Siamo nel febbraio del 2020, e penso che ricordate tutti cosa è successo in quel periodo. Arriva la pandemia, e il conseguente lockdown nazionale in tantissimi paesi di tutto il mondo. Scuole chiuse, saracinesche abbassate, strade vuote, e Loren si ritrova quindi bloccata nella tana del lupo, se così possiamo chiamarla. Le bambine non vanno a scuola, le ragazze non lavorano, non si può uscire se non per motivi di reale bisogno, come fare la spesa o comprare medicine. E se Loren passa la maggior parte del tempo ad occuparsi delle bimbe, a fare le faccende domestiche, la spesa, e insomma ogni tipo di lavoro riguardo la casa, Shay intanto inizia a maturare una grande passione per il true crime, simile a quella che abbiamo noi. La ragazza aveva sempre avuto interesse per i serial killer e in generale per i fatti di cronaca nera, ma durante il lockdown questa passione si trasforma quasi in una vera e propria ossessione. Shay passa intere giornate, e a volte intere notti, a guardare documentari, leggere libri e riviste, e a volte condurre vere e proprie ricerche sui serial killer. Mi sembra di leggere un'autobiografia? Un po' mi spaventa, ma vabbè direi che sono casi decisamente diversi. Perché in pratica, in questo caso, dobbiamo mettere insieme il lockdown prolungato e una ragazza mentalmente instabile che guarda ripetutamente documentari con storie macabre e si informa sui serial killer assettati di sangue. Cioè, il confine tra un sano interesse per il true crime, che molti condividono, come penso tanti di voi, e un'ossessione malsana, purtroppo diventa molto labile se subentra una vera e propria ammirazione per gli assassini. Shay, infatti, finisce per idolatrare i serial killer, reputandoli dei veri e propri geni per essere riusciti a sfuggire dalla polizia e ad aver ucciso per molto tempo. Diventa praticamente una loro sostenitrice. Quindi decide di tappezzare le pareti della sua camera con vari poster dei serial killer più famosi della storia del crimine. Un po' come si fa con gli attori o con i cantanti che si amano. I criminali che Shay aveva appesi al muro erano questi qui. Aileen Wuornos, una serial killer statunitense responsabile di aver ucciso sette persone giustiziate nel 2002 con iniezione letale e di cui ho parlato anch'io in un video. Poi Charles Manson, un criminale statunitense ritenuto il mandante dell'omicidio di Sharon Tate, all'epoca incinta di quasi nove mesi, e dei suoi quattro amici. E quello di Leno la Bianca e di sua moglie. È stato il leader della Manson Family, una setta di giovani hippie, che viveva in maniera particolare. Anche riguardo lui ho fatto un video. Poi Rose West, denominata anche la killer delle babysitter, che uccideva soffocando o pugnalando giovani ragazze dopo averle violentate e torturate nei modi più efferati in compagnia del marito Fred West. Questa storia neanche la conoscevo, quindi mi informerò. Poi ancora Richard Ramirez, conosciuto anche come The Night Stalker, ritenuto responsabile di 41 crimini, di cui 16 omicidi. Sul canale trovate un video anche su di lui. Ed è assurdo che tutti questi serial killer, o comunque tanti di questi, ho fatto un video una volta su di loro, e poi ritornano periodicamente in altri video per gente che si ossessiona a loro. Assurdo. Comunque proseguiamo con Myra Hindley, che insieme a suo marito Ian Brady, rapì, stufò e uccise 5 ragazzini tra i 10 e i 17 anni. Poi ancora Ted Bundy, famoso serial killer statunitense che uccise 26 persone. Lui adescava e intrappolava le sue vittime nel suo famoso maggiolino. Venne poi condannato a morte sulla sede elettrica. Poi non poteva mancare Jeffrey Dahmer, conosciuto come il cannibale di Milwaukee, che è stato responsabile dei 17 omicidi con metodi davvero cruenti, adoperando atti di violenza sessuale, necrofilia, cannibalismo, squartamento, di tutto. Sì, ho parlato anche di lui. E infine, sulle pareti di quei muri, troviamo Peter Sutcliffe, conosciuto anche come lo squartatore di Yorkshire, accusato di aver ucciso 13 persone. Allora, tutte queste persone sono diventate tristemente famose per i loro crimini efferati. Ma Shay ha sempre sostenuto che quelle stampe erano artistiche, bisognava guardarle in una maniera diversa, bisognava guardare secondo lei oltre i soggetti che rappresentavano. Lei era davvero fiera delle sue esposizioni, infatti le teneva proprio come esposizioni, ma quella non era l'unica collezione di cui si vantava. La ragazza, infatti, aveva anche una serie di pugnali celtici che lei appunto definiva da collezione, ma aveva anche delle asce e delle pistole, di cui però probabilmente non aveva le munizioni. Cioè, le esponeva proprio come pezzi d'arte e infine aveva anche delle lame. Shay, inoltre, era solita nascondere sotto al cuscino un coltello a serramanico, giustificandosi dicendo che lo avrebbe usato solo ed esclusivamente in caso di legittima difesa. La situazione precipita definitivamente quando Shay fa la conoscenza di quello che sarebbe diventato il suo nuovo ragazzo, il 25enne Frankie Fitzgerald. Nel febbraio del 2022, i due si incontrano una sera in un pub e a quanto pare scatta quella che in molti chiamano colpo di fulmine. Shay si presenta a Frankie e i due scoprono subito di avere un sacco di cose in comune. Entrambi sono genitori single, Frankie infatti aveva già due figli e viveva in un quartiere molto vicino a quello di Shay. Poi sono entrambi clienti abituali di quel pub ed entrambi adorano il BDSM. E qui cito testualmente la definizione così da non avere dubbi. In sostanza il BDSM identifica la vasta gamma di pratiche relazionali e o erotiche che permettono di condividere fantasie basate sul dolore e o l'umiliazione tra due o più partner adulti e consenzienti che da queste pratiche traggono soddisfazioni e piacere. La parola chiave è sempre consenzienti. Shay dopo aver conosciuto Frankie ricomincia purtroppo a fare uso di droghe, in particolare di cocaina. Da quando aveva scoperto di essere incinta non aveva più toccato nessuna sostanza ma le persone intorno a lei raccontano di come l'arrivo di Frankie abbia scombussolato completamente anche questo aspetto della sua vita. Shay dopo la nascita della bimba aveva ricominciato a bere ogni tanto la sera ma non aveva più toccato nessun tipo di droga fino a quando appunto non aveva conosciuto lui. La relazione tra i due, quella effettiva, in realtà sarà molto breve, infatti durerà solo 5 mesi. Ma quei 5 mesi saranno abbastanza intensi da far peggiorare Shay in maniera quasi irrimediabile. La ragazza ricomincia a fare uso di droghe più di quanto avesse mai fatto prima. Quando si vedeva con Frankie il suo passatempo preferito era fare uso di sostanze e praticare del sesso piuttosto violento, come vi dicevo prima. Anche in questo caso però Shay non riesce a distinguere il labile confine tra il divertimento a letto e quello che può trasformarsi invece in un vero e proprio episodio di violenza sessuale. Il sesso BDSM è un qualcosa di consensuale, infatti in una relazione sana questo coinvolge solo ed esclusivamente l'atto sessuale. I partner giocano a letto e si divertono, ma nel caso di Shay questo non accade. Perché le violenze finiscono per prolungarsi anche fuori dal momento di intimità e molto presto la relazione tra i due si trasforma in una vera e propria violenza domestica. Entrambi si accusano di tradimento, diventano gelosi, possessivi, si controllano i telefoni a vicenda e il loro rapporto diventa molto presto morboso e ossessivo. La rabbia e il rancore che entrambi provano nei confronti dell'altro viene poi sfogato a letto con la scusa del BDSM. Infatti a letto entrambi possono essere violenti consensualmente l'uno con l'altra, utilizzando quindi questa scusa per ferirsi a vicenda. La violenza fisica nel loro rapporto viene quindi mascherata o giustificata con la scusa di queste pratiche di letto. Ed è davvero strano se ci pensate, cioè è assurdo che si arrivi a tanto, che pur di farsi del male si arrivi ad usare la scusa del BDSM. È brutto eh, è una cosa bruttissima e probabilmente a Shay comunque andava bene perché era abituata ad avere questo tipo di relazioni violente. E non è che le piacesse però quando sei cresciuto in condizioni del genere, diciamo che non conosci altro e anzi quando vedi altro, magari qualcosa di più sano, ti spaventi. Pensi che non sia possibile e non ti fidi. Quindi è veramente una situazione difficile, anche da capire. La relazione piano piano si evolve in qualcosa di sempre più malato, di più ossessivo e di più tossico. Shay sembra perdere il controllo delle sue emozioni e ricordate che aveva smesso di prendere farmaci e stava abusando di alcoli stupefacenti, che su una persona che alla base soffre già di disturbi psichici piuttosto gravi, può amplificare notevolmente i sintomi della malattia e renderli ingestibili. Shay un giorno decide di presentare Frankie a Loren ed è in quel momento che comunica ad entrambi che le era stato diagnosticato un cancro abbastanza grave. E che entrambi avrebbero dovuto comunque sostenerla in tutti i modi possibili, con la bimba, con gli appuntamenti in ospedale, le visite e così via. Frankie e Loren ovviamente sono molto dispiaciuti per lei e si preoccupano tantissimo per la situazione di salute di Shay. Provano a sostenerla veramente in tutto, non solo appunto con la bimba e le visite mediche, ma anche a livello economico. Peccato però che questa era tutta una bugia. Shay non era malata, non aveva nessun cancro, si era inventata la malattia per attirare l'attenzione su di lei e per far sì che Loren si occupasse definitivamente di tutte le faccende senza che Shay si sentisse troppo in colpa. Allucinante! Arrivati a questo punto direi che la situazione le era già sfuggita di mano. Questo dimostra ancora una volta che la ragazza avesse delle tendenze manipolatorie totalmente fuori dalla realtà e talmente forti che era disposta veramente a tutto per ingannare le persone intorno a lei e per soggiogarle. Anche inventarsi un cancro inesistente. Che è una cosa ragazzi davvero disgustosa, un insulto a chi davvero ne soffre o ne ha sofferto. Fa proprio incazzare, ma considerando il suo passato e la sua condizione direi che ce lo potevamo quasi aspettare una cosa del genere. Shay tuttavia in quel periodo comincia di nuovo ad avere dei forti episodi depressivi e ricomincia anche a autolesionarsi e in generale a farsi del male con l'uso esagerato di stupefacenti e di alcol. La relazione tra lei e Frankie diventa ancora più violenta anche al di fuori del sesso e in particolare a letto i due si usano soltanto per sfogare la propria rabbia. Si considerano dei semplici oggetti sessuali. In un'occasione infatti i due hanno un rapporto, ovviamente filmato dalle telecamere che Shay aveva installato in camera, dalle quali si è potuto notare che l'atto non fosse del tutto consensuale. Ora, sono obbligato ad approfondire un po' di più di questo lato della loro relazione malsana perché in realtà è molto importante. Cioè, Shay definirà quel rapporto come uno studio consensuale. Ma ora mi spiego meglio. I due, all'inizio della loro relazione, avevano firmato una sorta di contratto sessuale, tra virgolette, in cui si affermava che Frankie aveva il diritto di poter fare determinate cose a Shay. Ad esempio, svegliarla con un rapporto senza doverle chiedere il consenso in quel momento perché appunto il consenso era già stato dato tramite il contratto. Questo contratto permetteva alla coppia di poter sperimentare vari giochi e cose comunque a letto, dando però il consenso a diverse pratiche non ben definite. Cioè, si dava spazio veramente all'immaginazione. Quindi era anche comunque un metodo per agevolare la comunicazione tra i due. Tuttavia, questa comunicazione tra Shay e Frankie in realtà mancava totalmente perché erano sempre alterati da sostanze o alcol e condizionati dal rancore e dalla rabbia che provavano l'uno per l'altra. Nella coppia era Frankie quello che si prendeva più potere, diciamo, se così si può definire. Infatti capitava spesso che facesse qualcosa a Shay senza il suo consenso. E da qui torniamo a quell'episodio dello stupro consensuale. Quel giorno Frankie aveva voluto passare dal senso vaginale al senso anale senza chiederle il permesso. Il che aveva ferito in parte Shay perché appunto si era sentita abusata da lui. Lei stessa ha ammesso poi che l'atto le aveva causato dolore fisico e avrebbe voluto che lui si fermasse. Ma non l'aveva fatto. Ho provato a spiegare questa dinamica del consenso nella maniera più semplice ma sono consapevole che si tratti di un argomento molto vasto e che necessiterebbe di molto più tempo per essere approfondito meglio. Per questa storia tuttavia è sufficiente fermarci qui perché è comunque abbastanza per capire queste dinamiche e per capire poi anche le inevitabili conseguenze del loro rapporto. E se continuassi probabilmente questo video sarebbe eliminato da YouTube in 0,2 secondi. Comunque Frankie col passare delle settimane diventa sempre più geloso di Shay e anche ossessivo nei suoi confronti. E infatti a partire da quell'episodio dello stupro consensuale i due hanno diverse rotture ma continuano comunque a vedersi per avere dei rapporti. Tutto ovviamente sempre filmato dalle videocamere. I loro messaggi privati tuttavia variano da dichiarazioni d'amore a minacce vere e proprie o insulti da parte di Frankie che le scriveva praticamente tutti i giorni di essere una sporca troia. Vabbè. In questo periodo siamo a maggio del 2022 quando Shay condivide con la sua amica Vicky ve la ricordate sì? Condivide con lei la preoccupazione per la gelosia troppo grande di Frankie che negli ultimi tempi le mandava messaggi in cui la minacciava continuamente e la insultava anche oltre il limite che lei era capace di tollerare. Lo stesso giorno i due amanti si vedono a casa di Shay e hanno un rapporto filmato come sempre e dal video emerge un dettaglio importante. Durante l'atto lui trova il pugnale che Shay nascondeva sotto il suo cuscino così neanche troppo preoccupato le chiede se avesse intenzione di ucciderlo e la risposta di Shay è no. Gli spiega anzi che il pugnale era lì solo per essere facilmente accessibile in caso di estrema necessità solo per difendersi e noi ovviamente sappiamo tutto questo proprio grazie alle telecamere di sorveglianza e infatti tutti questi filmati saranno veramente fondamentali per la polizia più avanti. Comunque con il passare delle settimane le fiamme di gelosia tra i due si alimentano e si intensificano sempre di più. Entrambi vogliono guardare il telefono dell'altro e Shay inizia a pensare che Frankie si stasse rivedendo con la sua ex fidanzata nonché mamma dei suoi bambini. La gelosia di Shay si trasforma molto presto in rabbia, voglia di vendetta e inizia a pensare a qualche modo per fargliela pagare. Questa volta è convinta e determinata e vuole ferirlo davvero. Così inizia a scrivere alla sua amica Vicky che ha intenzione di rovinarlo pubblicando i loro video privati in cui hanno rapporti sessuali spinti in particolare quelli in cui lei al momento, in quel momento nel video non era del tutto consensiente o quelli in cui lui praticava violenza fisica su di lei. Tutto ciò per dimostrare che lei era una vittima e lui un aggressore anche se in realtà le cose erano consensuali per vedere il contratto insomma lei voleva fargliela pagare in questo modo diffondando questi video facendolo passare per uno che abusava di lei e faceva violenza su di lei diciamo, cioè, lo faceva però era consensuale vabbè. La gelosia nei confronti dell'ex ragazza di Frankie poi si intensifica sempre di più al punto che Shay comincia a stalkerarla sui social e presentarsi addirittura anche a casa sua. Verso metà giugno del 2022 la loro relazione stava andando di male in peggio. Shay intanto ricontatta il suo ex Ashley e un giorno gli chiede di andare a casa sua lui quindi la raggiunge e insieme raccolgono tutti gli oggetti personali che Frankie aveva lasciato da lei e poi sempre insieme si dirigono a casa dell'ex fidanzata di lui per gettarli sulla soglia di casa sua una rottura proprio che sembrerebbe definitiva piena d'odio, di risentimento, di rancore ma non passano nemmeno due settimane che i due si riconciliano e così Frankie riporta tutte le sue cose a casa di Shay arriviamo così al 14 luglio del 2022 quando Frankie scopre che Shay si vedeva di nuovo con il suo ex fidanzato quel giorno le controlla il telefono e di conseguenza scopre tutti i messaggi al che diventa sempre più cupo depresso ma anche minaccioso cominciando a mandarle messaggi pieni di insulti ad ogni ora del giorno e della notte arriviamo in questo modo al 16 luglio quel giorno la figlia di Shay non è in casa per fortuna ma si trova dal padre la ragazza quindi chiede a Frankie di raggiungerla nonostante negli ultimi tempi i due non avessero fatto altro che minacciarsi insultarsi ed essere violenti l'un con l'altra comunque i due una volta insieme si ubriacano si fanno cocaina lui si mette a giocare ad azzardo online probabilmente per comprare altra droga e chiede poi del denaro a Shay la situazione sembra essere molto tesa e strana e sembra appunto che non sia cambiato assolutamente nulla dal giorno della rottura i due infatti cominciano presto a discutere prima per i soldi poi per vari tradimenti fino a quando Frankie esausto e ubriaco non va a collassare letteralmente in camera da letto di Shay lei quindi rimane in salotto dove continua a bere e sniffare cocaina nonché a controllare il telefono di Frankie ed è proprio in questo momento che scopre qualcosa che la manda veramente fuori di testa scopre che Frankie aveva avuto una conversazione con una ragazzina di 13 anni in lei quindi si insinua subito l'idea che Frankie non solo la tradisse ma che fosse anche un pedofilo Shay in quel momento è sopraffatta dalla rabbia e riesce soltanto a vedere i messaggi che i due si erano scambiati leggendoli le tornano in mente tutti gli abusi che lei aveva subito da bambina e impazzisce completamente che lo capisco sinceramente lo capisco in questo caso per inciso comunque informazione comunque molto importante si scoprirà poi che la ragazza con cui messaggiava Frankie aveva 17 anni non 13 e appena lui aveva scoperto che era minorenne l'aveva subito bloccata in quel momento però Shay era offuscata dalla rabbia dalla delusione dai traumi dell'infanzia e non si è accorta di questi dettagli fondamentali quindi si alza di scatto e corre nella camera da letto in cui Frankie stava dormendo afferra uno dei suoi pugnali da collezione e lo pugnala alla gola questa coltellata sarebbe bastata per dare il colpo di grazia a Frankie gli aveva reciso la giugolare e quindi anche chiamando l'ambulanza lui sarebbe comunque morto sul posto dissanguato Shay però non si rende subito conto di ciò che ha fatto e continua ad infierire pugnalato un totale di 22 volte con il viso pieno di sangue e il pugnale insanguinato in mano la ragazza si siede sul letto e cerca di ricomporsi Shay Groves la fan numero uno del true crime è diventata lei stessa un'assassina è ora seduta accanto alla sua vittima e nella sua testa sta ripassando tutte le immagini di tutti i casi di omicidio che aveva studiato conosceva l'importanza di crearsi immediatamente un alibi come anche le tecniche per ripulire la scena del crimine e sapeva anche come sbarazzarsi del corpo senza lasciare tracce quindi parte dal primo step ovvero crearsi un alibi manda subito un messaggio al suo ex ragazzo chiedendogli se potesse passare da lei quella notte poi manda un messaggio alla sua amica Vicky per dirle che Frankie era appena uscito di casa sua può sembrare un messaggio banale ma così facendo è come se lui avesse lasciato la casa stano in salvo vivo e poi fosse successo qualcosa più tardi quando non era più con lei dopodiché decide di parlarne con qualcuno e quel qualcuno come ben immaginerete è proprio la povera Lauren bussa alla porta di camera sua e le dice subito tutto quello che aveva fatto le dice senza mezzi termini di aver ucciso Frankie poi la porta in camera sua entrambe rimangono lì ferme ai piedi del letto a guardare il cadavere e Lauren completamente sottomessa e soggiogata dalla sua inquilina sul momento non fa domande obbedisce e basta iniziano quindi a discutere su cosa potessero fare per disfarsi del corpo all'inizio pensano di sempre l'irlo in giardino ma poi Shay propone di far nascere la teoria del suicidio come se 22 coltellate potessero mai essere considerate un suicidio questa proprio non so da dove le sia uscita anche perché era esperta di queste cose cioè vabbè comunque prima di occuparsi del corpo le due decidono di ripulire la stanza iniziano a pulire il sangue schizzato sul pavimento e sui muri prendono dei sacchi della spazzatura li stendono a terra raccolgono il colpo di Frankie e lo mettono sui sacchi poi procedono a lavare le lenzuola e il materasso che erano impregnati di sangue ed è in questo momento che Shay fa emergere di nuovo il suo lato più cattivo e manipolatore dice a Lauren che ora anche lei era coinvolta nell'omicidio perché la stava aiutando quindi era complice e perseguibile penalmente che è vero però ci torniamo Lauren in sostanza l'aveva già aiutata a pulire il sangue a spostare il corpo a ipotizzare come nascondere il cadavere quindi quando Shay le dice queste cose rimane di pietra rimane terrorizzata si rende forse conto di esserci dentro fino al collo anche lei al che Shay sente di avere totalmente il controllo su di lei e continua dicendole che se avesse fatto la spia sarebbero affondate insieme entrambe sarebbero andate in prigione immagino che in quel momento Lauren si sentisse davvero in trappola e nella paura generale abbia continuato ad assecondare Shay nonostante le due avessero già in mente un buon piano per occultare il corpo e insabbiare la scena del crimine a meno di sei ore dall'omicidio la polizia va a bussare alla porta di casa allora vi chiederete come hanno fatto in sole sei ore a capire tutto? ebbene grazie a Vicky Baitap l'altra amica di Shay mentre lei e Lauren ripulivano la scena del crimine infatti Shay aveva pensato che fosse una buona idea fare una bella videochiamata con Vicky per mostrarle il cadavere di Frankie non lo so ovviamente la ragazza va fuori di testa comincia a insultare Shay per quello che aveva fatto era cioè una cosa sciolta come se vi chiamano la vostra amica un giorno e vi dice guarda cosa ho fatto ho ucciso lui il mio ragazzo cosa dovresti fare? non lo so adesso mi viene da ridere ma non fa ridere cioè a immaginarsi la scena non lo so comunque Vicky appunto inizia a insultare Shay ma quest'ultima non la prende sul serio anzi ride la sfotte fa battute pensando che come Lauren non l'avrebbe mai tradita e invece Vicky a quel punto capisce che anche Lauren probabilmente era in una situazione di pericolo e decide di chiamare subito la polizia gli agenti arrivano poco dopo e quando bussano alla porta è proprio Shay che va ad aprire con l'aria disinvolta come se nulla fosse successo indossa una vestaglia rosa ha una sigaretta in mano e non sembra per nulla preoccupata la prima cosa che i poliziotti notano è il fortissimo odore di candeggina che fu riusciva dall'abitazione capiscono subito che molto probabilmente la scena del crimine era già stata ripulita o comunque la stavano ripulendo in quel momento gli agenti le dicono che sono lì per indagare a seguito di una segnalazione di omicidio e Shay a quel punto non ribatte semplicemente li fa entrare era riuscita a ripulire praticamente tutta la scena del crimine ma il corpo di Frankie si trovava ancora nella camera da letto steso sui sacchi della spazzatura per terra in bagno nel lavandino trovano il pugnale utilizzato per uccidere il ragazzo che però era già stato ripulito da sangue ma con tutte queste prove ovviamente entrambe le ragazze vengono arrestate subito con l'accusa di omicidio all'arrivo alla centrale di polizia le due vengono interrogate separatamente Shay non prova a negare neanche per un secondo anzi ma cerca comunque un modo per giustificarsi si difende dicendo che quella notte i due avevano avuto una litigata molto pesante che poi era finita con una violenza fisica durante la quale Shay aveva veramente temuto per la sua incolumità la ragione per cui i due avevano iniziato a scannarsi era appunto la scoperta dei messaggi di Frankie con una tredicenne dice quindi agli agenti che Frankie in un impeto di rabbia l'aveva immobilizzata per il collo impedendole di respirare dopo un po' la vista stava iniziando ad offuscarsi e in quel momento l'unico modo che aveva lei per uscirne viva era uccidere il suo aggressore quindi ha preso il suo coltello nascosto sotto il cuscino e l'ha colpito più volte questa versione dell'autodifesa come immaginate non dura a lungo perché ovviamente non combacia con nessuna delle prove trovate sulla scena del crimine ricordate che Shay aveva pugnalato Frankie per un totale di 22 volte se fosse stato per legittima difesa allora sarebbe bastata una sola pugnalata al collo per farlo smettere di strangolarla ma Shay ha continuato ancora e ancora che oddio in alcuni casi può succedere cioè in un impeto di rabbia in cui ci si aggrappa alla vita cercando di difendersi può succedere ma ragazzi ricordiamoci che le videocamere avevano comunque ripreso tutto non aveva neanche senso inventarsi una versione diversa dalla realtà era stato letteralmente filmato tutto questo delitto è stato dettato dalla rabbia dal rancore dagli abusi subiti dalla psicosi dall'abuso di alcol e cocaina Shay non era preoccupata per la sua vita in quel momento ma dentro di lei era nata una furia omicida mai vista prima la polizia non crede quindi alle sue parole nonostante non avesse ancora infilmati tra le mani inizialmente non le credono sia per via delle prove trovate nella scena del crimine che a seguito dell'autopsia sul corpo di Frankie il medico legale capisce in fretta che al momento dell'omicidio Frankie stava dormendo e non stava affatto immobilizzando Shay come diceva lei non aveva alcun segno di difesa di colluttazione niente si era letteralmente addormentato collassato su quel letto e non si era più risvegliato che posso dire in realtà molti dicono che sarebbe bello morire in questo modo ovvero mentre dormi mentre non sei cosciente ma oddio secondo me no cioè io voglio svegliarmi quando vado a letto non lo so secondo me non è il miglior modo per morire secondo me qual è il miglior modo per morire fatemelo sapere cioè non è che ci sia un miglior modo che ansia non lo so comunque le indagini cominciano a prendere un senso quando i detective interrogano Loren l'amica infatti racconta ai poliziotti tutto il background di Shay della sua infanzia la sua adolescenza molto tormentata dell'abuso di droghe della psicosi dei suoi atteggiamenti manipolatori e così via Loren descrive Shay come sempre estremamente arrabbiata violenta pericolosa non solo per se stessa ma anche per le persone che le stavano intorno racconta loro di come il suo rapporto con Frankie fosse estremamente tossico e perverso parla delle violenze verbali e fisiche delle continue litigate a qualsiasi ora del giorno e della notte delle minacce all'inizio Loren avrebbe dovuto ricevere delle accuse come complice dell'omicidio ma grazie alla collaborazione con la polizia è riuscita ad uscirne pulita la stessa Shay con grande sorpresa di tutti dirà poi alla polizia che Loren non c'entrava assolutamente nulla con la storia dell'omicidio e che ha agito in buona fede perché è sua amica e perché è probabilmente spaventata dalle conseguenze che avrebbe avuto se non l'avesse aiutata Loren ha poi accettato di testimoniare contro Shay in tribunale il processo di Shay Groves inizia sette mesi dopo l'omicidio lei rimane ancora aggrappata alla sua versione di legittima difesa e la sua difesa decide di mostrare in aula tutti i video della telecamera a circuito chiuso nella sua camera da letto che presumibilmente mostravano Frankie che la aggrediva sessualmente e si comportava in modo violento senza il suo consenso quindi la difesa era più basata su un fatto che ok lui era violento quindi ad un certo punto lei si è rotta le palle e l'ha ucciso scusate il francesismo ma quando questi video comunque sono stati effettivamente studiati in maniera approfondita e si è scoperto che in realtà erano stati modificati che non è un reato cioè non ho capito chi li ha modificati ma se è stata la difesa cioè hanno occultato delle prove a tutti gli effetti infatti c'erano dei pezzi che erano stati tagliati magari mettendo soltanto le parti in cui Frankie era arrabbiato e l'aggrediva verbalmente ma senza mostrare cose successe prima quando poi gli esperti riescono a ricostruire tutte le clip originali allora tutto acquista un senso e si capisce che i due in realtà facevano quei video proprio per documentare le loro sessioni di BDSM non erano veri episodi di violenza domestica non tutti e soprattutto non sono stati la causa dell'omicidio loro ne vichi quindi testimoniano in tribunale contro Shay e smontano definitivamente la versione della legittima difesa Shay verrà quindi dichiarata colpevole di omicidio e condannata all'ergastolo con un minimo di 23 anni ciò significa che potrà chiedere la libertà condizionale solo una volta raggiunti i 50 anni questa storia mi ha parecchio impressionato per diversi aspetti mi sono sentito molto coinvolto fin dall'inizio e ho provato a empatizzare diverse volte con Shay proprio per via del suo passato triste e tormentato a volte ci sono riuscito a volte no il suo lato così aggressivo e manipolatore purtroppo ha avuto la meglio e sono rimasto anche molto sorpreso di come si sia fatta beccare praticamente subito dopo il crimine cioè era così informata ha dedicato un anno della sua vita a documentarsi su crimini efferati su come bisogna fare dopo un omicidio per non essere beccati e poi ha videochiamato un'amica facendo vedere il corpo cioè non capisco che cosa le passasse per la testa in quel momento secondo me non aveva proprio realizzato quello che aveva fatto o comunque sentiva di aver fatto la cosa giusta perché aveva trovato quelle chat non ne sono sicuro non c'è in realtà una verità non esiste è una mia ipotesi secondo me è andata così perché ovviamente non era un momento di lucidità però arrivare a pensare che sia una buona idea chiamare un'altra persona e far vedere la vittima di un omicidio commesso da te dimostra proprio un distacco totale dalla scena da ciò che è successo e da tutto non lo so tutto molto strano e suggerisce anche che lei comunque non fosse pentita al momento ma proprio per niente come spesso accade comunque anche in questo caso abbiamo potuto vedere che un'infanzia difficile e abusi ripetuti possono scatenare qualcosa di davvero contorto nella mente dell'essere umano io in questo caso sono sicuro che se qualcuno l'avesse aiutata quando era piccola ci sarebbe stata una possibilità per lei è nata nella famiglia sbagliata e purtroppo Shay non è mai stata in grado di amarsi e di amare quindi no forse di amare è stata in grado però tutto il resto sommato penso l'abbia portato comunque a compiere quel gesto orribile tutto quanto sommato ma fatemi sapere ovviamente tutto ciò che pensate riguardo a questo caso e mentre scrivete qui sotto io vi anticipo che presto parleremo di un uomo che era davvero ossessionato da una celebrità e che alla fine la sua ossessione ha portato ad un epilogo davvero tragico e disturbante quindi ragazzi ricordate di iscrivervi al canale se siete curiosi e lasciate un mi piace se vi è piaciuto il modo in cui vi ho raccontato questa storia o un non mi piace se non vi è piaciuto basta che mettete qualcosa e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao